Partita anche questa gara E allora vediamo subito gli atleti del Bellusco che si portano in testa Ora è il numero 103 Zazzarini Campana, entriamo ora nell'eliminazione Ed è il chiocco che si è portato in testa Allungando il gruppo in maniera decisa Seguito da Montiero 3 2 6 fermarsi per scorrettezza 3 2 6 fermarsi per scorrettezza 3 2 6 devi fermare 3 2 6 fermarsi 3 3 9 fermarsi E allora in testa intanto si è riportato il chiocco con Montiero Attenzione c'è stata una caduta Si rialza l'atleta Quindi salta l'eliminazione per il ritiro di un atleta Prossima eliminazione a meno 41 E intanto l'atleta del Bellusco con 104 che si è portato in testa Siamo con l'eliminazione Era saltata Campana, campana Siamo ora nel giro dell'eliminazione Questo è il giro che elimina Elimination 90 90 fermarsi Se ne ha portato anche da solo E' intanto l'atleta del Roller Green in testa Ora Aretusa Skate 261 Cassarino Il numero 7 riceve ammunizione Ammunizione che è il numero 7 Numero 12 Fermarsi Numero 12 Fermarsi Sì Sì Campana Campana Giro Che elimina Ed è ancora Attenzione Una caduta C'è una caduta sulla curva Quindi Quello che la rarripe viene E' innato 236 E' insieme Ammunizione E' ora la gara entra nel vivo Velocità Siamo ancora A meno 35 7 mila metri Del loro 173 Eliminato Chiotto Monchiero Poi l'atleta del Bellusco Poi Lufato 3-3-5 Eliminato Burra 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 Ha preso il suono della campana Numero 98 Ammunito Intanto è Chiotto Che si riporta in testa 3-0-2 Eliminato Chiotto Burra Monchiero 3-0-2 Eliminato Fermarsi 3-0-2 Fermarsi Eliminato Campana Ho da una burra in testa al gruppo Spara Ora Chiotto Tornati Tornati Mandati Tornati 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 2-0-7 eliminato, 2-0-7 eliminato, eccoci con Giotto che allunga il gruppo, fa un bel zirone, lo mette in fila indiana, poi decide che era presto, 103 eliminato, Junior Femmine all'appello, Junior Femmine all'appello, attenzione, è stata una caduta, ed è Burro che è caduto insieme a lui anche a San Giorgi, quindi abbiamo due atleti che sono caduti, due eliminazioni saltano, ed è Bossi che si è portato in testa, la prossima eliminazione sarà a meno 21, e tanto ancora i atleti di Bellusco in testa, frigo, frigo in testa, ora si mescolano già le carte, e ora siamo nel giro che elimina, Elimination! 105 eliminato, 105 eliminato, 105 eliminato, Cassarino in testa, Cassarino in testa, seguito da Gobbato, Bossi, ora al comando, ora... Mullai, eccolo qua, non l'avevamo ancora visto in testa, 2-2-5 eliminato, e allora... Mullai, Bossi... 2-2-5 eliminato, fermarsi per favore... Campana... di meno 18... Ed è Giotto... e si porta in testa... e si porta in testa... 300 eliminato... e c'è un rallentamento in testa al gruppo, si schiacciano, prendono la campana di meno 16... un po' di tattica... sono gli atleti di Bellusco... che lanciano ora... l'azione... con Bossi... ed eccoci al passaggio da meno 15... 2-8-7 eliminato... 2-8-7 eliminato... 2-8-7 eliminato... 2-8-7 eliminato... Bossi e Balini... Bossi e Balini... Mullai... Bossi e Balini... Mullai... 98... fermarsi... eliminato... 9-8... eliminato... 98... eliminato... 98... Campana ancora con gli atleti di... Bellusco in testa... ora Cassarino... si porta in testa... salta l'eliminazione per il ritiro di un concorrente... salta l'eliminazione... per il ritiro di un concorrente... 104... Ammonito... entra in diffida... meno 9... prossima eliminazione... campana ora di meno 10... 2-8... ed è ancora... Giotto... poi... Gullai... 2-8... eliminato... 280... eliminato... 280... eliminato... ecco l'atleta di Siracusa... ancora in testa... Cassarino... al passaggio... del 1-8... hanno preso la campana... eliminazione... in corso... ed è... Giotto... di testa al gruppo... 81... fermarsi... eliminato... ed è ancora l'atleta di... Bellusco... il 104... che passa davanti al Zaguardo... Rossi... bannini poi... ma... Gullai... all'esterno... si porta in... prima posizione... siamo al passaggio... dei meno 5... 34... eliminato... 34... eliminato... Morelli... eliminato... ed eccoci al passaggio... di meno 4... ed è... Gullai... Arditta... Gullai... Gullai... ed è... Monchiero... 2-6-1... a un momento... Monchiero... lascia... lo sprint... 104... eliminato... ed è... Monchiero... si allunga... almeno due... Monchiero... ha lanciato la volata... lunghissima... 3-3-8... eliminato... 3-3-8... eliminato... forno... 3-3-8... eliminato... 3-3-8... ed è... ora... ultimo... 2-6-1... eliminato... 2-6-1... eliminato... 3-3-8... eliminato... 2-6-1... 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 3-6-1... 3-6-1... 3-6-1...